Gianluca Pellino aveva chiesto di essere giudicato dai fatti prima di esprimere giudizi sull'acquisto del 10% delle quote del Trapani. I fatti hanno certificato la totale assenza di competenza di questo imprenditore pugliese nel permettere al Trapani di sopravvivere nonostante le mille difficoltà societarie scaturite certamente da una precedente scellerata gestione. Ma il medico non aveva certamente prescritto a Pellino di acquistare il Trapani, di mettere in scena una pantomima ridicola, di offendere l'intelligenza dei trapanesi, tifosi e nonne, di calpestare con atteggiamenti e dichiarazioni una storia ultracentenaria di una squadra che sul campo ha meritato una sorte diversa. Un tira e molla snervante, una trattativa stucchevole, ammesso e non concesso che l'interlocutore, Alivision di Fabio Petroni, sia stato serio e affidabile. E' un'agonia che si è interrotta già sabato sera quando è arrivata la risoluzione contrattuale dell'allenatore Daniele Di Donato e che ha sancito di fatto la fine di tutto, forse di un incubo per i tifosi del Trapani. che resteranno per un anno senza calcio. Adesso gli interrogativi diventano almeno un paio. Quanto sono efficaci le regole che hanno funzionato alla perfezione, come ha dichiarato il presidente della Lega Borò Francesco Ghirelli? Com'è possibile che dopo il caso Palermo della passata stagione, con passaggi di proprietà farlocchi ad avventurieri della prima ora, le antenne della federazione non si siano drizzate per tempo? Piuttosto che combattere sull'allargamento delle liste dei calciatori? Piuttosto che parlare di danno economico per gli stadi che devono restare vuoti al momento, considerata la pandemia che avanza di nuovo minacciosa, non sarebbe stato il caso di mettere a punto un protocollo sanitario sulla vendita delle società di calcio? I controlli devono essere preventivi, non postumi. La Covizoc deve vigilare con attenzione e per tempo prima di esprimere parere positivo all'iscrizione di una squadra al campionato. Perché adesso i tifosi allo stadio non ci andranno comunque. I giocatori del Trapani, una sistemazione vantaggiosa, spinta anche dall'esclusione del campionato di Granata, la troveranno sicuramente. Ma chi ci pensa al magazziniere, al custode dello stadio, all'addetto alla lavanderia che ha pulito tante volte le maglie dei calciatori zuppe di sudore nel tentativo di salvare una società che degli elementi poco raccomandabili autorizzati dalle istituzioni, sì, proprio così, elementi poco raccomandabili autorizzati dalle istituzioni, hanno distrutto. Allora il responsabile non è il signor Pinco Pallino, o per meglio dire Pinco Pellino, ma la responsabilità è di chi governa il calcio, dal primo all'ultimo. E il calcio dovrebbe fermarsi in blocco, non per coronavirus, ma per dignità.